Ancora incubo terrorismo in Francia, all'aeroporto parigini di Orly, un uomo musulmano radicalizzato già noto ai servizi segreti, ha sottratto un'arma a un agente ma è stato poi ucciso dalla polizia. Poche ore prima lo stesso uomo aveva ferito una poliziotta durante un controllo alla periferia nord della capitale francese. A Washington il grande freddo tra Donald Trump e Angela Merkel, durante il primo teso faccia a faccia tra i due leader una stretta di mano negata e posizioni distanti soprattutto sul tema immigrati. Inferiore all'attesa invece le divisioni tra Europa e Stati Uniti su commercio durante il G20 in corso in Germania. Renzi nega qualunque ruolo nella decisione della libertà di coscienza per i senatori del PD nel voto su Minzolini. Non possiamo pensare di battere a destra inseguendola sul terreno del populismo, avverte il ministro Orlando. Tra i 5 Stelle polemiche sulla decisione di Grillo di far ripetere il voto per scegliere il candidato sindaco di Genova. Dopo il Monte Paschi Siena altre due banche italiane hanno chiesto l'aiuto pubblico per salvarsi. Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza hanno già inviato le lettere per ottenere dal ministero del tesoro un sostegno per la ricapitalizzazione, altrimenti c'è il rischio Beilin. Cancellati per decreto i voucher, quelli in circolazione rimarranno in uso fino alla fine dell'anno. Il governo ora sta lavorando per trovare uno strumento alternativo per i lavori occasionali o saltuari. Si guarda ai modelli di altri paesi europei come i mini jobs tedeschi. A due mesi dalla valanga che travolse l'hotel Rigopiano la drammatica registrazione della telefonata con le prime richieste di soccorso per l'albergo e la dura replica dei funzionari che sostengono che dalle verifiche nulla era accaduto nel resort, che in realtà era già stato sommerso dalla neve. Ne parliamo in TG Cronache. Oggi riparte il campionato con la Juventus che è forte di un vantaggio rassicurante in classifica. Guarda ormai soprattutto alla Champions League, alla sfida che la attende con il Barcellona nei quarti di finale. Oggi intanto si ricomincia con gli anticipi Torino-Inter e Milan-Genua. Una buona giornata e un buon sabato dal telegiornale della Sette. Ancora una volta è stata una giornata, una mattinata lunga, difficile, segnata dall'incubo terrorismo in Francia. Questa volta la situazione più complicata da gestire per le forze dell'ordine, quelle speciali che poi hanno sparato e ucciso quest'uomo che ha seminato scompiglio, panico e terrore, ha agito all'aeroporto di Orly e ha cercato di disarmare un poliziotto, ha cercato di sparare. Prima si è saputo che aveva forzato un posto di blocco. E' quel che più conta in questa fase così delicata per un paese in cui, ricordiamo, l'allerta a terrorismo è già stata prolungata fino a fine luglio. Era un uomo già conosciuto alle forze dell'ordine e ai servizi segreti. Prima ha forzato un posto di blocco alla periferia di Parigi stamattina verso le 7 e poi intorno alle 8.30 ha finito per essere ucciso in una delle sale dell'aeroporto internazionale di Orly. Il ministro dell'interno francese, Leroux, ha detto che si tratta di un 39enne, un pregiudicato che si era radicalizzato in carcere e che quindi era stato posto sotto una sorveglianza speciale, che non si sa ancora bene perché, era stata però interrotta ad un certo punto. Una fonte della polizia ha parlato di un musulmano. Il quotidiano Le Parisien, lo vedete, pubblica sul suo sito una foto che raffigurerebbe il corpo dell'uomo a terra e lo identifica anche come Zied B, con precedenti per rapine e violenze. Fatto sta che stamattina presto l'uomo era stato fermato per un controllo nella banlieue nord di Parigi, ma si è fatto largo a colpi di pistola, ferendo non gravemente un poliziotto. Più o meno un'ora dopo è all'interno dell'aeroporto. Sembra che non abbia più la sua arma, ma si nasconde dietro un chiosco di giornali e attacca alle spalle una soldatessa, cercando di strapparle il mitra, secondo le testimonianze dei viaggiatori. Altri due militari della pattuglia intervengono uccidendolo. Sono i soldati della cosiddetta operazione Sentinella, quelli che pattugliano tutti i luoghi sensibili di Francia, proprio per prevenire nuovi atti di terrorismo. Scatta l'allarme ai circa 3.000 passeggeri presenti. Viene chiesto di abbandonare con ordine l'aerostazione, che è ancora chiusa al traffico. I voli vengono deviati sull'altro scalo parigino di Charles de Gaulle. In centinaia restano bloccati a bordo degli aerei e ancora sulle piste. Per diverse ore si cercano tracce di esplosivo, nel timore che l'uomo possa aver avuto un piano più ampio, ma le ricerche non portano a nessun risultato. Secondo una tv francese sono stati fermati il padre e il fratello dell'uomo, che come abbiamo detto era già noto alle forze dell'ordine. Altro sangue che cade oggi su una campagna elettorale dove la sicurezza è uno dei temi più incandescenti. E proprio oggi la corsa all'Eliseo scatta ufficialmente. Sono state accolte 11 candidature, due donne e nove uomini. Non è arrivata, come si mormorava, una candidatura in extremis di François Hollande. Settivate il dibattito sulla sicurezza che tanto pesa sulla campagna elettorale francese, che forse ha marcato più di ogni altro tema alla distanza nell'incontro, il primo tra Donald Trump e Angela Merkel. A dire la verità hanno fatto il giro del mondo anche quei passaggi consueti del cerimoniale, saltati volontariamente o maldestramente, giudicatelo voi dal neopresidente americano. E muro contro muro su tanti temi, anche su quello legato alla politica commerciale. È durato meno di un'ora, 45 minuti, il primo faccia a faccia tra Angela Merkel e Donald Trump. Una stretta di mano che avrebbe dovuto suggellare una piena sintonia tra i due, che invece non c'è stata, ha rubato la scena ai contenuti dell'incontro, definito freddo, anche se cordiale. Diversità di vedute si sono registrate, soprattutto sulla questione dei migranti, e non sarebbe potuto essere diversamente dopo che il presidente statunitense ha messo tra le priorità della sua amministrazione proprio un bando sugli immigrati. Una posizione diametralmente opposta alla politica perseguita dalla Germania. Dobbiamo rafforzare i confini, ma anche guardare ai rifugiati, ha ricordato la cancelliera tedesca. L'immigrazione non è un diritto, è un privilegio, ha replicato Trump. Del resto, il presidente americano recentemente aveva definito un errore catastrofico la scelta di Berlino di consentire l'ingresso nel paese a migliaia di rifugiati. Critiche che la Merkel aveva respinto, ricordando che la Convenzione di Ginevra obbliga i firmatari, fra cui Washington, ad accogliere i rifugiati di guerra per motivi umanitari. Anche il tentativo di Trump a disdrammatizzare con una battuta il clima di tensione alludendo alle presunte intercettazioni sotto la presidenza Obama, non è servito. Almeno abbiamo qualcosa in comune, forse, ha detto, ma tutto quello che ha incassato è stato lo stupore della Merkel per quella frase inopportuna. Prove di riavvicinamento invece sulla lotta all'Isis e l'impegno in Afghanistan, mentre sulla Nato Trump è tornato a chiedere che i membri dell'Alleanza contribuiscano con la giusta quota alle spese di difesa. Un invito raccolto dalla cancelliera che ha assicurato che i partner dell'Alleanza continueranno a lavorare per incrementare il loro contributo alla difesa comune. Le distanze tra la Merkel e Trump restano tutte. Va un po' meglio a Baden-Baden, dove sono in corso i lavori del G20 sui scambi commerciali. Nei giorni scorsi Washington aveva minacciato di imporre tasse del 35% alla cosiddetta border tax alle case automobilistiche tedesche che producono vetture in Messico per poi importarle nel mercato statunitense. Minaccia alla quale Berlino aveva risposto con l'eventualità di ricorrere all'organizzazione mondiale del commercio. Allora, le vicende di Casa Nostra innanzitutto pochissimi minuti fa il Ministero del Tesoro ha diffuso come previsto la lista dei manager destinati a guidare le importanti aziende italiane a partecipazione pubblica. Dunque, il nuovo amministratore delegato di Leonardo Film Meccanica è Alessandro Profumo. Francesco Starace è confermato all'Enel come Claudio Descalzi a Deni. Matteo Delfante lascia Terna e approda invece alle poste. Diciamo i fatti di Casa Nostra segnati da questa settimana e soprattutto la polemica corre lungo i fili anche della giustizia con quei casi legati a Lotti e a Menzolini che continuano a far discutere anche per quanto è pesato magari dal punto di vista del PD il salvataggio senza trascurare poi la riapertura del confronto, del dibattito sulla legge Severino senza trascurare naturalmente anche tutte le fibrillazioni in Casa PD che riguardano soprattutto la sfida a Renzi per le primarie. La destra è populista e pericolosa il populismo è un veleno entrato anche dentro di noi ma non possiamo pensare di battere la destra inseguendola sullo stesso terreno è un avvertimento chiaro quello che arriva da Andrea Orlando non bisogna mai usare le parole che usano i populisti dice il guarda Sigilli oggi a Milano per presentare la sua candidatura alla segreteria del PD in cerca di sostegno da parte del sindaco Giuseppe Sala convinto di poter ribaltare i pronostici che nella corsa alla premiership del PD lo danno a netta distanza da Matteo Renzi percorso quello verso le primarie l'appuntamento è fra poco più di un mese che appare accidentato a pesare c'è la polemica divampata in Parlamento dopo che l'Aula del Senato ha deciso di non applicare la legge Severino nei confronti del senatore azzurro Augusto Minzolini condannato in via definitiva per peculato un salvataggio reso possibile anche grazie a 19 senatori del PD sui quali si sono abbattuti gli strali del Movimento 5 Stelle e degli ex dem ora MDP che hanno adombrato il sospetto di un voto di scambio la salvezza di Luca Lotti fedelissimo di Renzi e indagato nell'inchiesta Consip per la salvezza di Minzolini magari in vista di possibili larghe intese PD Forza Italia nel 2018 un'accusa neppure tanto velata è un atto eversivo ha detto il grillino Luigi Di Maio invocando l'intervento del presidente Mattarella che ha mandato su tutte le furie il capogruppo al Senato Zanda che ha respinto le accuse sottolineando che i senatori hanno votato secondo coscienza una scelta da cui Renzi prende però le distanze non ne sapevo nulla dice nel timore che le polemiche possano danneggiare l'immagine del partito tutto a vantaggio dei 5 Stelle in questo scenario si inserisce dunque anche il dibattito sulla necessità di cambiare la legge Severino con Forza Italia che punta a superarla e Berlusconi che sulla scia del voto su Minzolini è convinto di vincere la sua battaglia in Europa contro la sentenza che lo ha estromesso dal Senato e poi ci sono i malumori in casa grillina lo ricorderete la democrazia dal basso tutti i grillini che possono tramite il bloc decidere liberamente in che direzione andare insomma sembra tutto un capitolo nera già archiviata dalla decisione lo stop il siluramento di Beppe Grillo ci riferiamo alla sua piazza quella più amica quella di Genova in cui le comunarie in pratica si sono rifatte dunque silurata la candidata che aveva vinto si rifanno con regole oltretutto diverse dunque c'è una base un po' spiazzata e anche magari dissidenti che non parlano ma che non capiscono le decisioni di Beppe Grillo ma poi temono ritorsioni e dunque è una rabbia silenziosa la loro Luca Pirondini tenore di professione è il candidato ufficiale per i 5 stelle a sindaco di Genova e al momento la stella che risplende nel firmamento di Beppe Grillo è la sua ai danni di Marika Cassimatis che dopo l'esclusione voluta dal garante del movimento ha deciso di passare all'attacco minacciando carte bollate credevo nella democrazia e per questo mi sono messa in gioco evidentemente mi sbagliavo afferma amareggiata l'insegnante di geografia scelta dopo il voto online e poi scomunicata dall'alto con i 5 stelle è finita sono stata diffamata senza alcun riscontro ci vediamo in tribunale il mio attivismo continua vado avanti la colpa della Cassimatis sta nel fatto di essere troppo vicina a quella lista effetto Genova nata dai fuoriusciti del movimento 5 stelle nome non casuale che rievoca la lista effetto Parma dell'ex Federico Pizzarotti tra i sostenitori grillini c'è chi come Matteo Mantero deputato nazionale parla dei fatti di Genova come di una guerra per bande dove sarebbe opportuno per quelle persone che hanno creato questo pessimo clima si facciano un esame di coscienza per il futuro l'invito di Grillo a fidarsi di lui e della sua decisione lascia perplessi alcuni big del movimento tra questi Alessandro Di Battista from Man in TV e nelle piazze a cui Grillo ha delegato assieme a Roberto Fico la cura e la gestione dei meetup sono stanco di metterci la faccia avrebbe confidato a più di un collega soprattutto perché erano in pochi a sapere della decisione di Grillo e non sarebbe passata da lui il metodo Genova ideato e proposto alla Casaleggio da Alice Salvatore consigliera regionale Ligure e primo sponsor di Pirondini per tagliare via le correnti dove essere un esperimento esportabile negli altri comuni e poi alle politiche per evitare casi simili a quello della raggi a Roma esperimento fallito ha prevalso la linea ferrea dettata dal garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo che non a caso nel finale del post cita già Roberto Casaleggio con una sua massima al minimo dubbio nessun dubbio Allora un cuore giallo su uno sfondo blu è il simbolo di alternativa popolare che il nuovo movimento presentato oggi a Roma da Angelino Alfano che ha annunciato dunque naturalmente lo scioglimento del nuovo centro-destra ha detto Alfano il coraggio di costruire insieme questo è lo slogan che campeggia sotto il logo lo vedete oggi nasce un nuovo movimento siamo chiamati a ripartire pur non essendoci mai fermati ha spiegato il ministro degli esteri offriamo questa alternativa ai liberali ai moderati noi siamo alternativi alle penisti alla sinistra dell'indietro tutto a chi ha in mente solo la ruspa a chi dice no a chi non ha cura della Repubblica il capitolo banca è un capitolo che va aggiornato di settimana in settimana lo sapete quanto è fragile il nostro intero sistema bancario non c'è solo MPS per bisogno degli aiuti di Stato non c'è solo MPS a scontrarsi anche con quella politica europea che così da vicino con grande attenzione e severità guarda le nostre manovre in questo senso l'ultima mossa nel complicatissimo risico del debole sistema bancario italiano è stata fatta ieri sera dagli altri due istituti maggiormente in difficoltà Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza in due note distinte ma univoche dal punto di vista del contenuto i due istituti di credito hanno reso noto di aver comunicato al tesoro alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale Europea l'intenzione di accedere al sostegno finanziario straordinario e temporaneo dello Stato nell'ambito delle modalità di reperimento dei capitali necessari tradotto questo significa ricapitalizzazione precauzionale pubblica nell'impossibilità di procedere all'aumento necessario attraverso il reperimento di soli capitali privati del resto il decreto salva risparmio varato nel dicembre scorso aveva messo a disposizione 20 miliardi di euro per le banche in difficoltà ed era prevedibile che dopo MPS a chiedere aiuto sarebbero stati proprio i due istituti veneti giovedì scorso avevano comunicato a Francoforte di possedere individualmente i requisiti di solidità necessari ad ottenere gli aiuti statali sostanzialmente di essere esolvibili a questo punto come avvenne per il monte dovrebbe scattare la condivisione degli oneri con la conversione in azioni delle obbligazioni subordinate 1 miliardo e 2 200 milioni dei quali detenuti dei piccoli risparmiatori poi bisognerà capire quanto capitale servirà alle due banche si parla di 5 miliardi ma il fabbisogno dipenderà anche dall'esito della transazione con gli azionisti offerta per alleggerire i bilanci dei rischi legali legati alla presunta truffa sul prezzo di vendita dei titoli prima di tutto però sarà necessario ottenere l'autorizzazione da parte delle autorità BCE e Commissione Europea a derogare al bail-in drastica alternativa in caso di gran rifiuto la strada sarà lunga e difficile anche alla luce di quello che sta accadendo per il monte dei Paschi il cui piano industriale ancora non ha ricevuto il semaforo verde di Bruxelles e Francoforte dovesse andare tutto liscio presumibilmente lo Stato entrerebbe nei due istituti come azionista di maggioranza dal momento che il Fondo Atlante detentore delle due banche nelle quali ha iniettato complessivamente 3 miliardi e mezzo a partire dalla scorsa estate difficilmente potrà partecipare ad un aumento col miliardo e 7 rimasto gli in cassa e teoricamente destinato solo all'acquisto delle sofferenze e dunque naturalmente dicevamo come l'Europa ci guarda dal vicino ci guarda per cercare di capire in che direzione andrà il nostro sistema bancario ma poi c'è anche tutta quella partita che si sta giocando con Bruxelles sulla manovra correttiva ci lavora Padoan e assicura che arriverà la quadratura del cerchio è naturalmente un capitolo che interessa tutta la maggioranza il governo Gentiloni che dall'altra parte su un altro tavolo ha risolto in qualche modo la questione voucher con un'abolizione che ha fatto discutere un'abolizione totale che richiede naturalmente novità in quel campo la svolta è stata promessa dallo stesso partito democratico però bisogna trovare misure alternative per i lavori occasionali cancellati ieri i voucher con un decreto da oggi il governo dovrà valutare con quale strumento sostituirli ed ecco che già fioccano le prime ipotesi per famiglie di imprese il vuoto normativo creato con l'abolizione dei buoni lavoro potrebbe essere colmato con il cosiddetto assegno lavoro seguendo l'esempio di Francia e Belgio si tratterebbe in realtà di un voucher su misura destinato a badanti collaboratrici domestiche babysitter insegnanti che offrano ripetizioni agli studenti oppure c'è il mini job alla tedesca che vive però di incentivi pubblici le aziende pagano cifre irrisorie tasse al 2% e contributi al 3,7% nel 2016 sono stati creati più di 7 milioni di mini job pari ad un quarto dei contratti totali nel 2003 erano stati 5 milioni e mezzo tra i maggiori inconvenienti c'è che essendo limitati a 50 ore mensili e 450 euro massimi di retribuzione questi contratti dovrebbero fare da ponte verso la professione ma spesso si riducono a circoli viziosi se paragonati ai voucher italiani però i mini jobs teutonici sembrano un paradiso malattia ferie maternità permessi pensione sono tutti coperti si tratta sì dunque di contratti a tempo determinato con retribuzioni ridotte ma pur sempre con tutte le tutele essenziali dobbiamo guardare all'Europa ripete come un mantra il ministro del lavoro Poletti che spiega non si torna indietro non vogliamo ridurci come la Spagna con il 93% dei contratti creati a tempo determinato anche di uno o due giorni la riforma del lavoro introdotta dal governo Lorenzi il job sect del resto ha cancellato o depotenziato i contratti flessibili in nome delle tutele crescenti e della stabilità il lavoro a chiamate è utilizzato solo per gli under 25 e gli over 55 il contratto di collaborazione a progetto Coco Pro è sparito il contratto di collaborazione coordinata e continuativa Coco Co è limitato a pochi casi il tempo determinato è molto più costoso e dal 2018 con l'azzeramento dei voucher i costi burocratici di un contratto dai consulenti ai corsi sulla sicurezza uniti a quelli fiscali e previdenziali rischiano di alimentare il lavoro nero un rischio da scongiurare a tutti i costi adesso torniamo per un attimo sul decreto Minniti quello sulla sicurezza urbana c'è cramo di capire in che direzione si sta andando anche con quella sorta di provvedimento che adesso si può utilizzare un mini daspo che richiama i provvedimenti di uso calcistico per regolamentare l'ordine pubblico negli stadi che invece riguarda anche il decoro urbano delle nostre città più sicurezza no più emarginazione il dibattito sul decreto Minniti si muove tra questi due poli e alimenta le polemiche proprio a poche ore dai primi provvedimenti emessi a Firenze e Milano nel capoluogo Lombardo tre writers che stavano imbrattando la metropolitana sono stati sanzionati con il cosiddetto daspo urbano la sanzione amministrativa prevista dal decreto sulla sicurezza urbana voluta dal ministro dell'interno che adesso sta per essere convertito in legge al senato dopo il passaggio di giovedì alla camera stessa sorte a Firenze per due spacciatori che per due anni non potranno accedere nei locali di piazza Santo Spirito e nelle vie limitrofe una delle aree della movida notturna fiorentina la prima applicazione del decreto ha scatenato la reazione di chi considera le norme volute dal ministro Minniti un'ulteriore forma di esclusione sociale a capeggiare il dissenso Roberto Saviano lo scrittore dalle colonne del quotidiano La Repubblica firma oggi un commento nel quale afferma che il decreto è un regalo a chi vuol raccogliere consensi cavalcando la paura e potrebbe avere l'effetto di creare centri storici ripuliti da indesiderati e periferie ghetto Saviano si chiede quali parametri si utilizzeranno per stabilire chi è indecoroso e chi no e attacca dicendo che dare discrezionalità al potere significa generare ingiustizie con lui anche molte associazioni da Antigone al Gruppo Abele a Lila in un documento scrivono che le nuove disposizioni invece di risolvere i problemi dell'esclusione sociale ne aggravano l'intensità suggerendo ai sindaci come unico strumento di intervento quello dell'allontanamento e il divieto di frequentazione da parte delle persone più in difficoltà non è una legge di destra è la replica del ministro dell'interno Minniti spiega che le norme sono state scritte a quattro mani con lanci l'associazione dei sindaci italiani il sindaco prosegue ha solo il potere di segnalare le aree urbane su cui concentrare gli sforzi di controllo del territorio le sanzioni spettano al questore l'obiettivo di questo strumento precisa il ministro non saranno i clochard o chirovista in un cassonetto della spazzatura ma per dirne una qualche spacciatore seduto davanti a una scuola o una discoteca o magari un writer cui sarà chiesto di ripulire un bene comune che ha imbrattato è stata una settimana complicata per Gino Paoli buone notizie perché è stato dimesso e sta meglio riepiloghiamo molto brevemente cosa gli è capitato cantautore genovese a 83 anni è stato colpito lunedì da naoneurisma alla orta addominale è stato operato a Modena la città dove trascorre molto del suo tempo ormai da diversi anni la moglie ha assicurato che il cantante naturalmente dopo un periodo di convalescenza tornerà presto sul palco adesso andiamo al campionato di calcio che torna alle spalle ci siamo messi una settimana di Coppe Europee che ci ha detto molto sulle prospettive delle squadre italiane sugli obiettivi obiettivi davvero prestigiosi quelli della Juventus dei quarti stellari contro il Barcellona e invece obiettivi falliti per la Roma se si guarda l'Europa League ma si riparte col campionato che due milanesi oggi si chiude proprio con i giallorossi domani sera l'Olimpico contro il Sassuolo dopo l'ampia parentesi riservata alle Coppe Europee il campionato torna ad essere argomento centrale i tornei continentali rimangono comunque il punto di partenza per ipotizzare quali potrebbero essere gli sviluppi della parte conclusiva della stagione la Juventus porta di un vantaggio rassicurante in classifica avrà tempo e modo per pianificare l'operazione Barcellona nei quarti di Champions League l'urna di Nihon ha collocato sulla strada dei bianconeri un'avversaria estremamente pericolosa ma altrettanto stimolante affrontare i Blaugrana tra tre settimane a Torino nel primo dei due match con la pratica Scudetto virtualmente archiviata consentirebbe loro di concentrare gran parte delle proprie energie psicofisiche sul primo reale obiettivo stagionale un'operazione che scatterà già da domani con la trasferta sul campo della Sampdoria l'Europa da l'Europa toglie Roma e Napoli le due più autorevoli inseguitrici della Juventus sono rientrate nell'ambito nazionale con un drastico ridimensionamento delle proprie aspettative il Napoli ha pagato Lazio in Champions cedendo il passo non ad una squadra qualsiasi ma Real Madrid che si giocherà l'accesso alle semifinali in uno straordinario quarto contro il Bayern Monaco il secondo posto diventa l'obiettivo principale degli azzurri di Sarri il tecnico domani tornerà da ex sul campo dell'Empoli per continuare a dare un senso alla stagione discorso parallelo per la Roma impegnata in serata all'Olimpico contro il Sassuolo che non ha neppure l'attenuante di essere uscita dall'Europa League per mano di un avversario irresistibile il Lione ha probabilmente non solo messo allo scoperto i limiti di una rosa inadeguata per affrontare tanti impegni ma ha confermato anche i crescenti malesseri di Spalletti sempre più prossimo al commiato intanto oggi la decima di ritorno si apre con due anticipi di tutto rispetto l'Inter di Pioli e di Cardi a Torino contro i Granata di Mikhailovich e Belotti cerca i tre punti per proseguire la propria rincorsa all'Europa in serata il Milan penalizzato da infortuni e squalifiche ospiterà al Meaz il Genoa sempre più contestato dopo la sconfitta di domenica scorsa nel derby contro la Samp Milano è preso con un closing davvero difficile di cui parleremo in TG Cona che qui vi lascio dunque la linea Raffaella Di Rosar si riparte dalla tragedia di Rigopiano e dalle polemiche mai finite se volete noi invece ci vediamo come sempre domani domenica alle 13.30 una buona giornata a tutti voi